Lui come altri endorsement, che si ricollega molto a quello che dici tu, perché quando la Grecia è andata in default e è stata chiesta appunto l'assistenza tecnica e le politiche del memorandum di intesa, la Troica, questo memorandum prevedeva 15, loro le chiamano milestone, cioè 15 condizioni per le quali i creditori avrebbero dato dei soldi. La Grecia ha un debito, l'Unione Europea dice io ti do, ti faccio dei prestiti non per te Grecia, ma per ripagare gli interessi del debito, cioè i soldi che la Grecia riceve servono a pagare gli interessi del suo repito, tu però in cambio realizzi questi 15 condizioni che io ti chiedo. Ogni volta che ne fai due o tre, quattro o cinque a seconda, ti do, ti sgancio quattro spicci. Tre settimane fa ero a Strasburgo, viene Moscovici e fa tutto il suo discorso e dice beh la Grecia ci sta provando, in Grecia muoiono di fame, esattamente come nel Burkina Faso, più e ne meno, casi di malnutrizione, rachitismo da malnutrizione dei bambini, quinto muoio,